Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Andiamo a risolvere questo terzo esercizio sulla conversione digital analogica, sempre molto basico e simile a quello che abbiamo fatto la volta scorsa. Qua abbiamo un generico convertitore digital analogico a 4 bit che presenta in ingresso dei valori binari, due combinazioni, in un caso 1, 1, 0, 1 e nell'altro 1, 0, 0, 0. Vogliamo determinare il valore delle tensioni di uscita corrispondenti a quei due ingressi, tenendo conto di avere una tensione di riferimento di 10 volt e poi calcolare la risoluzione del DAC, che è il passo o quanto, il passo di quantizzazione o quanto. Bene, per iniziare a fare questo esercizio dobbiamo, come già detto nello scorso esercizio, prendere quella che è la formula classica dell'uscita in funzione di quelli che sono i bit di ingresso. Ce ne sono di due tipi, vi ho già detto che io preferisco usare questa, ma se no trovate anche quella dove praticamente viene raccolto il valore di 2, sotto al denominatore di Vref viene raccolto 2 alla n, quindi viene espressa come passo di quantizzazione che poi Vref fratto 2 n, e poi tutti i vari bit, ciascuno moltiplicato per il suo dual n corrispondente. Dipende un pochino da come uno preferisce procedere. Allora, andiamo a vedere nel primo caso, quindi abbiamo nel primo caso la Vref è 10, quindi avremo 10 per allora, il primo bit è 1 e sono 4, quindi avremo 1 no, scusate facciamo così quindi abbiamo 1 fratto 2 più 1 fratto 4 l'1 fratto 8 non c'è perché questo bit è a 0 e quindi poi avremo 1 fratto 16 ok, a questo punto beh, questo è semplice perché possiamo farlo con minimo comune multiplo e quindi avremo un 16 qua sotto avremo 8 più 4 più 1 uguale a 130 fratto 16 che corrispondono a 2 a 2 sì, a 8 virgola 125 volt quindi questa è l'uscita in corrispondenza del caso A corrispondenza del caso B è molto più facile ancora avremo praticamente una VO che è solo 10 per la prima parte che è un mezzo e quindi avremo un'uscita di 5 volt bene, quindi molto facile molto meccanico c'è sempre la solita formula niente di particolare il passo di quantizzazione come abbiamo già visto anche espresso qua è Boref fratto 2 alla n quindi in questo caso abbiamo 10 fratto 2 alla quarta che è 16 e quindi avremo 0,625 volt per ogni bit o meglio scritto come 625 millivolt fratto il singolo bit che è bit meno significativo che viene scritto in questo modo quindi questa è la mia risoluzione bene spero sia tutto chiaro è molto molto veloce molto semplice fatemelo sapere nei commenti ci vediamo alla prossima lezione al prossimo video ciao ciao ciao